amici eccoci arrivati alla 34esima domenica del tempo ordinario wow solennità di cristo re il figlio dell'uomo si siede sul trono della sua gloria e separa i buoni dai cattivi un po' come quando alla cr di scout in oratorio si fanno le squadre c'è un caposquadra che chiama e un altro che chiama ecco gesù tu sei il mio caposquadra tu mi hai chiamato e mi chiami solo tu e rispondo solo eccomi alla tua chiamata tu sei il mio caposquadra terza posizione seconda posizione vi è mai capitato di dover dare un esame oppure un'interrogazione o mamma chissà cosa mi chiederà mentre sei lì che ripassi chissà cosa mi chiederà che bello pensare che gesù nell'esame ci ha già detto che cosa ci chiederà ci chiederà se gli abbiamo dato da mangiare se lo abbiamo aiutato quando era nel bisogno se lo abbiamo vestito quando era povero e nudo se siamo andati a trovarlo quando era malato o in carcere sappiamo già le domande è fatta seconda posizione prima posizione sì perché gesù è in coloro che hanno bisogno qualsiasi tipo di bisogno dal compagno di classe alla persona che incontriamo per strada che ci tende la mano sì c'era una volta una pubblicità di una pasta vabbè possiamo anche dirla la marca barilla dove c'è barilla c'è casa questa era la pubblicità bene io penso che questo slogan noi possiamo rivederlo così dove c'è bisogno c'è chiesa la chiesa deve essere lì dove c'è bisogno se dove c'è un bisogno non trovo un cristiano non trovo la chiesa se io come cristiano non mi sento chiamata ad essere lì dove c'è quel bisogno ho sbagliato tutto perché dove c'è bisogno c'è chiesa cioè c'è la famiglia di gesù e dove c'è bisogno c'è cristo stesso prima posizione ciao buon fine anno liturgico perché da domenica prossima inizia l'avvento ciao ciao